cancro carissimi trascorrere la settimana più magica dell'anno con venere e marte a favore sono diamanti celesti con nettuno a favore vuol dire immergersi in un'atmosfera se non da fiaba poco ci manca certo voi che avete saturno contro voi soprattutto di giugno potreste non pensarla così fino in fondo però direi che nel complesso le stelle della settimana natalizia vi fanno un po recuperare sia il buon umore diciamo sia un po le sorti in generale il giorno della vigilia la luna è nel vostro segno sarete tutti cancrosi coccolosi natalosi poi anche a natale a santo stefano la luna è bella vi da il calore vi trasmette proprio il calore degli affetti e delle persone che vi vogliono bene il palato è soddisfatto la zona sudo l'ombelico che trodica fa quindi oltre che l'amore e il calore c'è anche questo ardore suino e da parte di tutti noi tanti cari auguri di felici festività grazie a tutti grazie a tutti